L'attività congiunte di Napoli Holding, ANM, ma tutti i professionisti che sono in questo momento impegnati in una grandissima opera insieme al personale, agli uomini e alle donne di ANM e delle altre società partecipate per una riqualificazione e il ritorno dell'efficienza all'interno di questo modello. Ieri abbiamo approvato un importante bilancio che vuole significare l'abbattimento delle perdite dai 55 milioni del 2016 a 1.200.000 del 2017, ma il processo continuo, il processo di risanamento, che naturalmente passerà per la valutazione superiore e illuminata della magistratura, della sezione fallimentare, ma naturalmente continua il processo di efficientamento che vuole riduzione dei costi, contingentamento degli sprechi, azzeramento di tutte quelle fughe economiche che naturalmente non fanno servizio alla città, incremento dei ricavi diretti e indiretti e soprattutto una fortissima lotta all'evasione, una forte lotta a tutto ciò all'illegalità e all'inefficienza.